Buonasera a tutti e in particolare agli scordiezi del mondo che hanno voluto unirsi alla contribuzione che è stata organizzata in occasione della festa della Madonna della Stella. Quella dell'8 settembre è una tradizione che a scordia è attesa non solo dagli abitanti di Contrada Montagna ma un po' da tutti gli scordiezi, quelli che si trovano a scordia come quelli che si trovano in tutto il mondo. E' una festa attestata già sul finire dell'Ottocento quando ancora rappresentava soltanto l'occasione per trascorrere l'ultima giornata di refrigerio prima dell'inizio della stagione invernale e lavorativa. Solo all'inizio del Novecento con la costruzione della chiesa in Contrada Montagna e il dono del 1911 della prima statua della Madonna della Stella la giornata dell'8 settembre ha assunto il sapore religioso che conserva ancora oggi. Quella donata nel 1911 dai coniugi Antonino Modica e Teresa Laganà è una copia in carta pesta della statua della principale padrona di Militello da cui il culto scordiense ha avuto origine. Proprio attorno a questa statua si è cominciata a diffondere la devozione come attestano alcune foto dell'epoca. Questo culto quindi nato all'inizio del Novecento si è continuato a rinnovare, una tradizione che si è rinnovata nei secoli superando anche gli anni Sessanta quando è stata costruita la nuova chiesa, quella in cui ci troviamo è commissionata la nuova statua che è questa alla mia sinistra che ancora oggi portiamo in processione l'8 settembre. Una tradizione che si rinnova quindi e che continua ancora oggi, ogni anno dal 5 all'8 settembre anima la Contrada Montagna. Quest'anno vogliamo rivolgerci in particolare a voi, cari scordienzi nel mondo, a voi giunga il nostro saluto, il saluto del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna della Stella e ringraziamo, vogliamo ringraziare di cuore ciascuno di voi per le offerte che generosamente ci avete inviato attraverso Alessandro Crizzo e la pagina Facebook Scordienzi nel mondo. È un contributo prezioso che ha permesso anche a voi di fare la vostra parte per valorizzare queste tradizioni a cui ancora dovete sentirvi legati perché Scordia, ovunque voi vi troviate, è e rimane la vostra casa. In particolare con le vostre offerte pagheremo i fuochi d'artificio dell'uscita della Madonna della Stella l'8 settembre. E così potremo, anche grazie a voi, salutare in maniera più bella, più suggestiva, più colorata appunto l'immagine della Vergine che ancora una volta riabbraccia il suo quartiere e la sua gente. Ancora una volta quindi un saluto a ciascuno di voi e grazie a tutti per il vostro contributo. A tutti voi vi auguriamo una buona festa della Madonna della Stella con l'auspicio che anche attraverso i social network che oggi riescono a renderci tutti un po' più vicini possiate vederne qualche immagine. Auguri a tutti e viva Maria!